Tutto pronto quasi per l'apertura di una nuova palestra nel centro di Alife, il tempo di sistemare la numerosissima attrezzatura pronta per essere messa a disposizione degli iscritti e qualche dettaglio burocratico, poi l'inaugurazione della struttura che sarà aperta per tutta la settimana, ce ne parla e ci spiega il progetto, il titolare Gennaro Ballarino che sulle ali dell'entusiasmo per i risultati che sta ottenendo alla sete di Gioia Sannitica è pronto ad aprire una nuova struttura anche qui ad Alife. Sì, ad Alife perché ho scelto Alife, perché Alife è un punto molto strategico, infatti è localizzata nei pressi della stazione, le persone hanno una possibilità in più, ci sono tantissime persone che prendono anche il treno perché non hanno possibilità di spostarsi. È una palestra che ho cercato di crearla, diciamo, seguendo alcune esigenze delle persone, dei vari atleti e magari si avvicinano anche alle prime anni. Infatti abbiamo un po' rivisto alcuni prezzi proprio per dare la possibilità a tutte le persone di iniziare questo sport perché è l'anima della vita ed è importante lo sport perché oggi lo sport educa tantissime persone e di conseguenza ho cercato veramente di metterlo a disposizione di tutti con dei prezzi ma bassissimi proprio. Io credo che effettivamente oggi bisogna valorizzare di più lo sport e dare di più alla possibilità e vedere come un settore di crescita e non come un settore a livello economico dove sfruttare, diciamo, un'economia che oggi già sta in crisi. Che cosa vi occupate esattamente? Avete dei settori dove siete più specializzati di altri oppure è una palestra dove è possibile fare di tutto? No, in realtà poi ci saranno persone qualificate, persone di federazioni, quindi si partirà dalla danza a karate, alla kickbox e tante altre discipline. Quindi ci sarà una sala predisposta per quanto riguarda tutte queste discipline. Poi ci sono altre sale dove le persone potranno allenarsi sia per quanto riguarda il cardio che una preparazione atletica con le attrezzature. Quando si prevede l'inizio di questa nuova attività da LIFE? Ma, diciamo, il sistema burocratico un po' ci ha rallentato, quindi io credo che per metà o marchi e bada inizio febbraio la palestra dovrebbe avere tutte le autorizzazioni necessarie per svolgere l'attività. Ci sono già tanti in attesa? Beh, sì, ci sono tantissimi perché vedo che mi segnalano sia su Facebook, mi chiamano, arrivano messaggi. Beh, diciamo che ho tanti punti a favore. Il primo è che è un locale tutto quanto, diciamo, messo a punto perché una persona che entra non ha tante spese in più, quindi ho lasciato a disposizione le docce, quindi non sono vincolati, ci sono i condizionatori su tutti quanti le partite locali, addirittura pure all'interno dei spogliatoi. Quindi qua le persone hanno maxi schermo, hanno tutta la necessità, fanno una Wi-Fi, diciamo con un prezzo ridotto e partiremo dai 15 euro mensili. Quindi si darà l'opportunità veramente a tutte le persone di affacciarsi a questo mondo dello sport. Quali saranno i giorni della settimana che siete aperti, con gli orari, così, giusto per informare chi verrà da voi a fare attività? Sì, infatti mi leggo anche al discorso di prima ed è stata, diciamo, una scelta quella là di rimanere aperti 7 su 7 proprio per dare opportunità alle persone che magari vogliono veramente allenarsi in un certo modo, addirittura anche di domenica, che qui in zona non c'è nessuna palestra che rimane aperta di domenica.